è Cleopatra, un nuovo film su Cleopatra, suscita polemica, ma non dovrebbe suscitare nessuna polemica, allora suscita polemica che Cleopatra sarà rappresentata da una attrice israeliana, Gal Gadot, una attrice israeliana, farà la parte di Cleopatra e si sono scatenate delle polemiche perché questo nuovo film su Cleopatra avrà come protagonista una attrice israeliana, cioè un'ebrea, 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 capito? La bella, bella, Gal Gadot, Gal Gadot, Gal Gadot, Gal Gadot, beh io la notizia la metto con i link riassunto di questo video affinché voi stessi la possiate leggere nella sua interezza, ma a me sembra una cosa normalissima che in un film il ruolo di Cleopatra sia rappresentato proprio da un'attrice israeliana, a me sembra normalissimo perché gli ebrei sono stati in Egitto tanti secoli, gli ebrei si dividono in due grandi categorie, gli ebrei di Abramo, gli ebrei abramitici, Abramo veniva dalla Caldea, si è spostato dalla Caldea all'incirca nel 2000 avanti Cristo, ci sono gli ebrei di Abramo e poi ci sono gli ebrei di Mosè, gli ebrei di Mosè, gli ebrei che guidati da Mosè sono usciti dall'Egitto all'incirca nel 1350-1300 avanti Cristo, gli ebrei in Egitto ci sono stati diversi secoli, hanno acquisito usi, costumi eccetera dagli egiziani, quindi non c'è niente di strano che sia un'attrice israeliana ad avere il ruolo di Cleopatra, regina d'Egitto, regina d'Egitto ai tempi di Caio e Giulio Cesare, ai tempi di Marco Antonio, ai tempi di Ottaviano, ecco, ecco cari amici, un'attrice israeliana è la più indicata a svolgere tale ruolo, proprio perché tra ebrei e egizi c'è stata una lunga consuetudine, una consuetudine secolare, secolare. D'altra parte gli ebrei dall'Egitto hanno portato via, in un certo senso hanno portato via la religione monoteistica, questo lo scrive Mosè, lo scrive Sigmund Freud nella sua ultima opera, Sigmund Freud nella sua ultima opera spiega che l'uomo Mosè era nascita del monoteismo, quindi per le affinità che ci sono tra gli antichi ebrei e gli egizi, risulta davvero intelligente affidare il ruolo di Cleopatra a un'attrice ebrea israeliana. Ok cari amici, per cui come al solito vi dico tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.